Retex è un'azienda italiana, un'azienda giovane, nel senso che è stata fondata dieci anni fa, undici anni fa in realtà. È un'azienda tecnologica che opera prevalentemente in tre settori, la grande distribuzione, la ristorazione e il fashion and luxury. Il filo rosso che conduce il nostro operato al mondo del retail. È un'azienda imprenditoriale? È un'azienda imprenditoriale, l'imprenditore Fausto Caprini è in azienda, socio di maggioranza, tuttora amministratore delegato. Siamo cresciuti molto velocemente, in dieci anni siamo arrivati a fare 55 milioni di euro di fatturato, 350 dipendenti, siamo cresciuti molto in maniera inorganica acquisendo diverse aziende specializzate in comparti che fossero di nostro interesse, quindi aziende che facevano qualcosa che ritenevamo utile per il mondo del retail e della ristorazione e del fashion per ampliare la nostra offerta. L'intelligenza artificiale andava oltre la tua aspettativa? No, perché è un tema su cui noi stiamo lavorando molto, perché l'intelligenza artificiale in realtà è una frase che può dire tante cose o poco, bisogna capire esattamente di cosa stiamo parlando, ma se ad esempio è applicata all'utilizzo del riconoscimento vocale e alla gestione di determinati processi attraverso l'intelligenza artificiale è qualcosa che, come dicevi tu, non è il futuro, è assolutamente realtà. Presumo anche la previsione dei flussi, la previsione degli stock, ma anche la gestione della sala. Cioè? Ma banalmente noi stiamo portando avanti un progetto pilota che prevede l'utilizzo del riconoscimento vocale in modo tale che il cameriere, il personale di sala non abbia in mano niente, non abbia un tablet, non abbia un foglietto di carta, ma parli in un microfono e prenda la comanda. La comanda dove va? Va direttamente in casa e in cucina. Sarà mica che nel 2021 a catene organizzate bisogna andare a parlare di processi e di efficienza. Eppure alla fine di questo si parla. Questo mi ha suggerito, come dicevo all'inizio, che il tema è eterno, no? È l'innovazione permanente. Ecco, non si arriva mai alla fine. Assolutamente. Perché tu dici, dopo la pandemia il tema, semmai, è ancora più rilevante. Il tema è ancora più rilevante perché è lì dove si riesce a fare la differenza dal nostro punto di vista tra redditività e non redditività. Il personale? Il personale fa parte dello stesso discorso. Perché se tu hai meno persone, allora quelle poche persone che hai, devi fare in modo che facciano le cose di valore, come diceva sempre qualcuno prima. Quindi prendere la comanda, se tu non hai l'obiettivo di far vivere un'esperienza di relazione dove una persona di sala spiega la cantina, spiega da dove arriva la carne, eccetera. Ma se tu non hai quell'obiettivo, mai l'obiettivo di far vivere bene un momento di ristorazione di qualità in compagnia, allora prendere l'ordine è qualcosa che può andare via veloce. Può essere fatto in autonomia o può essere fatto con l'uso della voce. Il pagamento? Il pagamento viene citato sempre. Ma gli strumenti per fare un pagamento veloce e facile al tavolo ci sono da tantissimo tempo. Bisogna forse magari mettersi più nell'ottica di dire dico alle mie persone che sono meno, sono meno formate, più difficili da formare, che devono fare cose diverse, che devono fare qualcosa di maggiore qualità e quindi gestire una relazione con il cliente. Nel modo della ristorazione la cosa che mi ha stupito entrando in questo ambito è stato proprio quello di vedere poca attenzione o meglio un'attenzione molto basica. La battuta che si fa sempre è al di là dell'undicesimo caffè dopo averne pagati dieci si fa poco per tenere il cliente legato a sé. Poi con le dovute eccezioni ovviamente perché ci sono programmi di loyalty sicuramente validi. Però mediamente il tema della segmentazione del cliente, della definizione di politiche commerciali dedicate a diversi segmenti di cliente, che potrebbe essere mutuato dal mondo della grande distribuzione. guardo un collega in fondo, noi lavoriamo con Finiper, con tutto il mondo della ristorazione di Finiper, tutti i ristoranti di Finiper hanno lo stesso programma di loyalty che hanno negli ipermercati perché giustamente il cliente vuole vivere un'esperienza omnicanale. Se accumulo punti negli ipermercati li posso spendere nel ristorante e viceversa. Il mondo della grande distribuzione ci insegna tantissimo sul tema della loyalty. Noi quando parliamo con tanti interlocutori della ristorazione di loyalty li scontriamo timore fondamentalmente. Giornata molto interessante, bisognerebbe organizzare di più di questo tipo di incontri perché l'opportunità di avere punti di vista così diversi nello stesso settore, nello stesso mercato è assolutamente unico, assolutamente positiva. Grazie a tutti.